Ok, a parte poi le classifiche sono subite tra Amadori e Provenzzi, per quanto riguarda il pit stop, in caso di stop and go, naturalmente non è che dovete effettuare il campo, dovete fare almeno ogni squadra, almeno ogni pilota di squadra, dovete fare almeno un giro, se non effettuate la sosta ci verranno 5 minuti di penalità. Grazie.